Per frenare la quarta ondata del covid davanti all'aumento dei contagi, il governo si appresta a varare nelle prossime ore un nuovo decreto con un green pass rafforzato. Dall'incontro con le regioni è emerso l'obiettivo di salvare il Natale, la stagione turistica invernale, convincere i Novax ad effettuare la somministrazione ed evitare nuovi lockdown. L'orientamento è quello di vietare a chi non si vaccina l'ingresso ai ristoranti, cinema, concerti e teatri. Sarà vietato anche andare allo stadio, frequentare palestre e piscine al chiuso. Il certificato verde diventerà così un super green pass con validità ridotta a nove mesi. Non si otterrà più con il tampone ma solo con il vaccino o con la guarigione dal covid. Il tampone, la cui validità potrebbe essere ridotta a 48 ore per il molecolare e 24 per il rapido, resterà valido solo per andare al lavoro. Ancora da decidere se le regole scatteranno quando una regione entrerà in zona gialla o arancione oppure se avranno valore per tutti in zona bianca. Non è escluso inoltre anche il ritorno della mascherina all'aperto. Probabilmente andremo incontro a un green pass rafforzato. Questo non dipenderà da noi, dipenderà dal governo. Però è ovvio che l'invito è a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati di farlo perché è l'unica protezione che abbiamo. Magari il Natale porterà buon consiglio. E al tempo stesso dobbiamo accelerare la terza dose perché come abbiamo visto anche quello sarà fondamentale per contrastare al meglio questa quarta ondata che per fortuna grazie ai vaccini non è come l'anno scorso così pericolosa e così forte. Però dobbiamo tamponarla e per tamponarla dobbiamo essere molto rigorosi con la mascherina, molto rigorosi con il green pass, sperando che coloro che non si sono vaccinati lo facciano presto. Grazie. Grazie.